Ciao a tutti, sono Monica Giovenco della LR Immobiliari. La proprietà che vi presento oggi si trova in Via La Spezia, alla Dispoli. L'immobile è situato in una posizione strategica, in quanto a pochi minuti a piedi si raggiunge Via L'Italia, la via centrale, dove troviamo negozi commerciali di ogni genere, ristoranti e bistro, ma soprattutto a piedi si può raggiungere la stazione centrale ed il mare. L'appartamento si trova al primo piano di una palazzina in tinta con ascensore di soli due piani. Dal grande terrazzo che circonda tutta la proprietà possiamo accedere tramite un doppio ingresso con porte blindate al salone. Il salone è grande e molto ampio, anche questo cucina abitabile. Due camere e doppi servizi. La caratteristica principale che contraddistingue questa proprietà è sicuramente il terrazzo. Come dicevo, ampio, che circonda tutta la casa e quindi regala all'appartamento una luminosità costante durante tutto l'arco della giornata. Le dotazioni di questo immobile sono quindi porte blindate, grate, zanzariere e fissi in legno. Completano la proprietà. Due ampi e comodi box. Se sei interessato a vedere questo appartamento visita il nostro sito www.lrimobiliare.it oppure contattaci ai numeri qui in sovra, in pressione, ti aspettiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.